Sei uno studente di batteria e hai già accumulato una lunga serie di esercizi ma il tempo che hai a disposizione non è mai abbastanza? Ti senti frustrato perché non sai come uscirne? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il creatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e ti assicuro che mi ci sono trovato anch'io nella tua stessa situazione. Mi riferisco a quella che in gergo viene chiamata overload o sovraccarico. Questa sensazione ti provoca ansia e frustrazione, vero? Beh, oggi ho una buona notizia per te, perché voglio mettere a disposizione la soluzione che ha funzionato per me e che sicuramente aiuterà anche te. Vedi, durante la mia fase più intensa di studio della batteria mi sono reso conto che le ore che studiavo non erano sufficienti più per eseguire tutta la serie di esercizi che mi ero proposto di fare. Capii anche che superare le otto ore di studio al giorno non era la soluzione vincente. Fu così che cominciai a pensare che dovevo trovarmi assolutamente un sistema efficace che comprendesse una serie di esercizi fondamentali e irrinunciabili, che però non superasse le due ore di studio giornaliere. Altrimenti sarei tornato ad avere i problemi di affaticamento psicofisico come li avevo prima. Ho cominciato così a scegliere gli esercizi più importanti e li ho inclusi in una sequenza breve ma molto intensa ed efficace. Poi ho capito che per avere realmente degli ottimi risultati dovevo praticarla tutti i giorni. Ti assicuro che non ci è voluto poco tempo ma dopo diversi mesi di aggiustamenti finalmente ce l'ho fatta e allora ho costruito il mio workout. Beh, se anche tu ti trovi in quella situazione di sovraccarico, overload e stai cercando una serie di esercizi che possano ottimizzare lo studio della tecnica delle tue mani, clicca qui sotto e avrai accesso al mio 2 hours workout livello 1. Questo è il videocorso che realmente stavi cercando. Al suo interno ti illustrerò la prima fase, quella semplice, che contiene lo schema di studio che ti permetterà di fare un po' di ordine nella tua routine. Ma non basta! Ho deciso di lavorare insieme a te in tempo reale proprio su questi esercizi. E allora ho creato un'aula virtuale. Accedendovi ci vedremo tutti insieme una volta alla settimana, ma ognuno può starsene a casa sua e infatti non ti devi spostare. E inoltre è gratis! Per cui l'appuntamento è una volta alla settimana, il giovedì alle 21.30, all'interno di Sticks and Pad Nights livello 1. Con questo sistema potrai finalmente partecipare attivamente a ogni lezione. Potrai fare domande, potrai dare il tuo contributo, potrai addirittura farci vedere come segui l'esercizio in diretta. Insomma, ti troverai all'interno di un'aula virtuale insieme a tutti quei batteristi che sono proprio come te, quelli che fanno parte del tuo gruppo di pari. Potrete conoscervi fra di voi, entrare in contatto, insomma, costruire un vero gruppo. Per farlo ti basterà semplicemente uno smartphone oppure un tablet, o meglio ancora un PC che ha lo schermo più grande e ovviamente una connessione a internet. Tutto qua! Per concludere, se vuoi lavorare su questi schemi per ottimizzare il tuo tempo di studio e partecipare attivamente a queste lezioni di gruppo, devi fare solamente due cose. Uno, acquistare il videocorso Two Hours Workout livello 1 cliccando sul link che trovi qui sotto. Due, iscriverti all'area privata cliccando sempre nell'altro link che trovi qui sotto per accedere alle dirette. Ah, dimenticavo, se non puoi partecipare alla diretta, troverai all'interno della tua area riservata la registrazione della lezione. Sotto ogni video troverai l'area commenti dove potrai fare domande, dare suggerimenti e io ti risponderò personalmente. Ora ti ho detto proprio tutto per questo video. Quello che puoi fare è, se ritieni che questa iniziativa possa essere utile anche per qualche tuo collega, segnalaglielo oppure condividi questo video sui tuoi social. Non dimenticarti di mettere il like sulla pagina Facebook, di iscriverti al gruppo Strumenti per il batterista intelligente ed iscriverti al canale YouTube attivando la campanella per le notifiche. Un abbraccio da Ruggero e spero tanto di vederti e conoscerti personalmente alle dirette di Sticks & Pad Nights livello 1. Il primo appuntamento sarà proprio giovedì prossimo alle 21.30 in diretta. Mi raccomando, tieni d'occhio la casella di posta elettronica dove troverai il link da cliccare per accedere alla diretta e ci vediamo giovedì sera. Ciao!